Quella del Cesedi è un'esperienza che può fare scuola in Italia, soprattutto il Ministero, come la può sostenere nei prossimi anni? Allora io adesso mi impegnerò in prima persona tramite i miei collaboratori al MIUR affinché il Cesedi venga conosciuto al MIUR, perché non è detto che questo sia già così, affinché le buone pratiche del Cesedi, così come di altre realtà simili al Cesedi, possano diventare sistema, perché l'obiettivo che abbiamo al Ministero dell'Istruzione sulla formazione dei docenti è fare in modo che la formazione avvenga tra docenti, un peer-to-peer tra docenti, affinché non siano le solite lezioni calate dall'alto e il docente si senta coproduttore della formazione in se stessa, quindi provare ad esportare l'esperienza del Cesedi anche in altre realtà e sistematizzarle. Un riconoscimento, un accreditamento del Cesedi presso il Ministero può significare risorse o opportunità in più per questa struttura? Ma penso entrambe le cose. Io oggi non faccio promesse ovviamente perché ribadiamo, devo consultarmi con tutti i miei collaboratori e capire dal punto di vista normativo cosa non va, perché non è stato fatto prima e dopodiché proveremo a portare questo risultato a casa.